Ehi la ciurma! Io sono Mazzatest e sono qui con Marco88 E siamo di nuovo su Untarned 3.0, questo dovrebbe essere l'inizio di una nuova stagione su Untarned 3.0 Non vi abbiamo fatto vedere solo la prima parte in cui abbiamo recuperato giusto il minimo indispensabile Per fare due sacchiapello e tre casse in modo da spawnare in un punto dove respawniamo sempre Se Marco si ricorda di cliccare home e non respawn Te lo ricordi? Ho notato una cosa, sì Adesso stavamo andando in città a cercare un po' di cibo e da bere perché stiamo morendo di fame e di sedia Hai visto il riflesso del sole nell'acqua? Che figo! Sì Siamo di nuovo sulla Pay Perché a Marco piaceva un po' l'idea di ritornare sulla mappa di un tempo con il nuovo Untarned Ma non è la stessa mappa? Sì, alla fine è la stessa mappa, solo che è cambiata leggermente graficamente Alcuni posti sono stati leggermente modificati come qua il porto che è stato un po' migliorato C'è un sacco di gente qua Beh, leggermente col cavolo Io non vedo più, nessuna similazione a quella mappa Sto arrivando Perfetto, ottimo lavoro di copia Uh, dei pezzi di lana Io nel frattempo ho provato delle novità Ah, tra l'altro, novità fantastica Che Marco forse vede per la prima volta Sulla mappa finalmente abbiamo la freccia che ci indica la direzione in cui stiamo guardando Così almeno si capisce meglio da che parte si sta andando Perché prima era davvero parecchio complesso capire in che direzione ci si stava muovendo Per non dire quasi impossibile Cioè bisognava fare le prove Finta da che non si scopriva qual era la posizione in cui ci si stava muovendo Invece adesso con... Ah, tra l'altro, se non sbaglio, adesso controllo Ma dovrebbero aver reso la colla mangiabile Sei come Razzo, mangi la colla Sì, si può mangiare la colla Si vede tutto azzurro Ma dà un po' di sete e un po' di fame Adesso non ci capisco più niente però LOL Ma perché ha detto che sennò non aveva nessun senso perché non ci sono ancora crafting No, è anche tutto ovattato LOL, senti tutto strano Marco Pro, devi bere della colla Devi berarti della colla, assolutamente E altra cosa importante che hanno aggiunto nel frattempo è la mappa Yukon In pratica è una mappa molto più difficile Ambientata Oddio, che strano Ambientata nel freddo più estremo No, ho trovato... Marco, ho trovato una sega Devo andare assolutamente a portarla... Ah no, ma qua ce l'abbiamo Ce l'avevo qua Perché continui a trovare oggetti che hanno molti duplicenti Eh, ma... Ciao Comunque, no, cosa che stavo dicendo? Che nella mappa Yukon È proprio un survival estremo Perché c'è il freddo E se non sei vestito completamente Cioè maglia, pantaloni e... E berretto Non... Prendi danno costante E quindi devi trovare subito un posto con dei vestiti E subito cercare di sprovvivere In realtà Dopo un po' ce la si fa Però io ci ho messo tipo Boh, forse sono morto una decina di volte Prima di riuscire a vestirmi per bene E fare un piccolo accampamento con un sacco a pelo E due ceste con dei vestiti Così almeno quando respawni hai dei vestiti da metterti Perché se no respawni in mezzo a nulla In mezzo alla neve E muori di freddo magari prima di trovare della civiltà Marco non ci sta raccontando niente Che cosa ti succede, Marco? Cosa stai trovando? Non lo so... Delle ballerine... Non lo so dell'acqua perché se no muoio Bravo io sto cercando il materiale da costruzione Se trovi del cibo in più Grazie Sì ma sai qual è il problema? Che è tutto deperibile Quindi trovo del cibo al 90% Eh ma al 90% va ancora bene Mi pare che dopo un po' faccia... No no no, non va bene al 90% Hanno a meno salute sai i tizi quelli che saltellano scimmiescamente Io li ho trovati Degli occhiali, uuuu Posso mettermi degli occhiali? E' uno slot in più vero no? Sì Al posto delle cuffie Ma sì le cuffie fanno troppo gay No in realtà no Eh Ah ho trovato delle uova Ho trovato dei vestiti che scrafterò Ah non ho più spazio corn e wheat tra l'altro nel patch note c'era scritto anche che è stato modificato il il farming per renderlo più utile ma non so ancora come funziona, non ho ancora avuto modo di provarlo spero che sia più utile di prima perché prima bisogna avere il livello massimo in farming per riuscire ad ottenere un seme dal anche le uova danno acqua ma veramente poca cioè scete si 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 nel senso idratazione ma tra l'altro scotch se ne trova in quantità industriale, io non so cosa serve lo scotch adesso ma ce ne è in quantità mostruose forse serve per riparare qualcosa, non lo so io una lattina posso fare posso fare dello scotch posso fare dell'altro scotch ma lo scotch invece cosa serve? è un kaiser cosa serve lo scotch? niente come la cosa o per fare le scale e basta? sembra di si solo per fare le scale neanche per riparare della roba se trovi dell'acqua portamela perché io non ho messo no sto morendo di sete anch'io? non ho acqua però posso fare delle bende tipo ma non lo farò ora anch'io ho preso un sacco di bende no io non ho preso bende ho preso stoffo più che altro e vestiti che ho scraftato anche perché qua a differenza della Yukon i vestiti non è che servono molto se non per un fine estetico c'è un rischio di morire di freddo qua quindi sono più utili le bende in fin dei conti e così quasi me ne crafterò un paio perché non ho tanta salute ok perfetto mi sono fatto un paio di bende di livello 2 che dovrebbero dare il 10% si infatti non è tantissimo ma è sempre meglio di niente comunque mi stavi dicendo prima Marco in base a cosa si recupera salute? quello ho detto in base al team e poi no ma adesso il clima è il temperato è molto lento cosa? e poi? io questa cosa dei civili che fanno tutto questo danno non lo capisco cioè alla fine si non riesco a capire come fanno gli zombie a fare il danno che fanno alla fine sono semplici umani eh ma perché sono infetti eh capirai fisicamente è impossibile non è che diventi forzuto per perché sono praticamente non è che diventi forzuto per chi impegna mi ha fatto un sacco di danno quelli che saltellano quelle specie di scimmiette sono un casino perché si muovono molto veloci hanno poca salute ma si muovono davvero molto veloci non trovi ma questo posso mangiarlo per la vita per la salute sì per la salute oh sì così poco eh non hai trovato niente immagino perché oh io ho trovato uno sledgehammer quello per distruggere le cose credo che butterò qualcosa per tenermelo ah no basta fare un po' di spazio va le cuffie posso anche buttarle ho messo un bel po' di punti sulla vitalità ah io ancora non li metto tanto so che morirò presto quindi lol e più che altro credo che li metterò sul farming sai perché voglio trovare un modo per essere autosufficienti con il cibo almeno cioè secondo me è una cosa molto importante vedrò un bel po' di colla puoi berla prova a berla la colla ah senti una cosa la colla dimmi ti dà quelli scetti solo se è andata male perché la colla va male ma la mia era al 100% allora è una cosa randomica perché prima colla che ho preso non mi ha fatto sballare adesso io vedo tutto blu ne ho bevute due di seguito e la prima non ti aveva fatto niente la prima che ho bevuto adesso non mi ha fatto niente la seconda mi ha fatto vedere tutto blu lol sei tu qua? vicino alla sbarra no sono degli zombie scimmia eh ce n'è andato l'effetto quello blu è terremendo perché non vedevo niente dopo vedrai della mia visuale ma si sente anche tutto strano ma ce ne hanno lasciati ancora un sacco di ma perchè rispone a freddo questi zombie di prima comunque avevo trovato un bel po' di verdura e frutta quindi anche io ho un po' di verdure ma vorrei provare a pientarle senti io qua non ho trovato niente io vado in farmacia anche sto andando in farmacia allora mi serve uno di vitamina perché ho il 50% sento ho un'adrenalina delle bende cosa vuoi? no vitamina mi serve del sciroppo per la tosse guarda ti butto tutti i miei medicinali che ho lasciami lo sciroppo sciroppo eccolo che così dovrei recuperare ecco e mi bevo la colla al freddo io sto morendo di sete non ho più idratazione oh i muri si stanno dilatando sei cosa marco io torno a casa perchè così almeno muoio a casa non trovo lo sciroppo per la tosse eccolo il pane che mi devi dare mi sarà andato a male nel frattempo gli avevo dato del pane e gli ho detto mangio lo mangio lui dice ma non ho il pane ma non ho il pane e invece ce l'aveva comunque vado a morire a casa tu muori perché ho il 3% di acqua di idratazione quindi non è che posso fare molto tra l'altro marco non abbiamo deciso cosa fare di questi video se dividerli oppure no ah il metallo lo metto qua perchè il metallo serve un sacco a riparare gli oggetti anche perchè ora si rovinano tutti e quindi se troviamo tipo la motosega o ste robe qua ci dobbiamo tenere un po' di metallo da parte sai che ho scoperto che posso craftare adesso che sono andato avanti le bende avanzate mi sa che sono avanzate dato che sono diverse ma le bende avanzate le puoi fare solo quando hai le bende quelle più base ecco non danno tanto quindi non sono avanzate allora io intanto guardo le skill aumento avevano un simbolo strano no parco eh qua agriculture mi serve un cavolo di mi serve qualcosa di eh ce l'ho al massimo agriculture si allora fammi piantare qualcosa prima di morire fammi piantare qualcosa ah no devo arvestarlo più che altro dove craft 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 sarà dove sarà non voglio morire ma no mi dà comunque un seme lo stesso io voglio scuttare ma che case di senso non ha senso sta storia mi dà un seme lo stesso cosa me ne faccio di un seme solo scusate no ma su serio cosa me ne faccio di un seme solo ah a parte che sta crescendo del 50% ma cosa cavolo me ne faccio scusa io ho bisogno di avere due semi o almeno due frutti crescono molto più in fretta però tanto sto morendo adesso è gg buonauta al secchio piazzerò dei mettoni decorativi se mi riesce prima di morire no sono morto e cosa si fa quando si muore Marco si preme home e no respawn un altro generatore per casa nostra ah io ne avevo già preso uno prima ah il martello questo ci serve io ne ho trovato un altro il martello pesante come dove lo lascio ma c'è testa hai idea che sto farmando zombie a manetta bravo fai bene fai proprio bene devo lasciare il martello qua ci sta si ci sta quindi sai cosa facciamo cosa facciamo io mi sto farmando per combattere praticamente io combatto e tu fai l'agricoltura e ma te tu sono morto quindi ho di nuovo la skill abbassata sai che si abbassa quando muori no ho buttato dello scotch per terra si io faccio più quello di utilità anche perchè sono scarso combattere queste robe qua io ce l'ho fatta con due zombie in uno stanzino praticamente bravo io torno in là ti do il cambio se stai a morire non sto morendo no perfetto cioè sto morendo eh quanto sono sceso di skill adesso eh mi è sceso di due livelli scusa mi sei la skill porca miseria di due livelli potresti fare una cosa dimmi abbiamo bisogno delle borracce eh si ma non ne ho trovata neanche una eeeh sono craftabili eh? sono craftabili controlla cosa serve per creare le borracce eh ma se non hai logici non te lo dice credo che serva la lattina ma non ne sono sicuro e dove si trova la lattina? eh o la crafty con dello scrap metal che però non ho più eeeh io ce ne ho di scrap metal eh guarda allora perchè se non hai l'ingrediente non te lo fa vedere nemmeno qua l'hai esplorata tutta la città? non stavano niente eh hai esplorato tutto qua comunque non ha senso che Marco ti ho chiesto se hai esplorato tutto no dove ti sei fermato? non lo so io sto cercando dell'altra colla alcune cose non le prendo perchè non servono eh? continuo a guardare a parte che gli zombie spawnano all'infinito veramente troppo velocemente ho trovato delle apple juice è andato male del formaggio è andato male e una patata è andata male però posso piantare la patata allora qua ne faccio craft eh posso fare delle assi fucsia? cosa è quella roba? ah la colla serve per fare dello scotch ma di scotch ce ne triliardi come cosa? ah la patata qua ok ci ho fatto il seme se non altro il seme non va male comunque mi sa che sta andando avanti con la produzione delle bende facendo le bende avanzate perchè ogni volta che crafto tante bende mi fa cambia il crafting anche prima di ciò così ha sempre fatto così perchè hai bisogno di due bende di un tipo per fare l'altra no non hai capito si che ho capito mi cambia anche il crafting base cioè io capisco come hai detto tu che cambia che vengono potenti ma non così mi ha potenziato anche quello base cioè è cambiato e no perchè con due pezzi di stoffa farai sempre la stessa roba si ma l'immagine è diversa ma perchè non è più la stessa roba e non lo fai più con le stesse cose non hai capito sempre due pezzi di coso ma con l'immagine è diversa come se fosse più potente anche quello base ma allora per una cosa delle skill si forse oppure perchè craftando aumenta no no non può non aumenti di tipo di livello craftando al massimo per le skill che hai preso ah un berretto non avevo un berretto finora una radio non mi serve ah un altro berretto mi piace di più questo berretto per terra però questo è troppo invernale ci sono tipo 4 coltelli in mezzo centimetro quadrato ma ci sono triliardi di armi ma niente da mangiare una pistola ma cosa me ne faccio la pistola dov'è la colla un altro berretto ma la mia roba che ho scritto prima in chat rimane là per sempre non ne ho idea comunque questa colla non mi ha fatto niente eh? non mi ha fatto niente sta colla no? io ne ho anche una nell'inventario ma preferisco non berla adesso ma ti fa del danno non mi ricordo più la colla? eh ti togli salute? o ti dà la direzione qualcosa dipende sei culo secondo me è un ruoto della forza si? cioè è casuale? si ma non c'è più niente qua mi fa sapere che abbiamo esplorato tutto io sto per andare scotch tanto per cambiare colla me la tengo per berla io vado dove vai? in una città aspetta sono qua fermati sono dietro di te oh c'è lo zombie oh c'è lo zombie aspetta che ti secco lo zombie ok uh ah no ho droppato uno matto aspetta che guardo qua se c'è nel lounge o matto c'è qualcosa non c'è niente no non c'è niente io sto per andare perché ci sono due si eh cosa ho droppato? dello scotch abbiamo benzina no abbiamo benzina aspetta che guardi se questo ha più benzina no non abbiamo una tanica vai muoviti eh dimmi la strada però hai la mappa ah si ora è di base ce l'hanno tutti guarda un po' dove devo andare la prima sulla destra o sulla sinistra perché sono le prime cose che ok ma tanto non ci arriveremo perché abbiamo il 5% di benzina ah no secondo te la prigione con l'isoletta lì è vicino o lontano? non lo so ma ormai siamo arrivati in questa fattoria qua e io dico di staccare il video qua tanto sono 21 minuti 22 e ci vediamo nel prossimo video ok allora segui fatti ciao ciao dai aspetta ciao